La TV cambia e con il nuovo digitale terrestre sono in arrivo grandi novità. Telemonte Cronio. A maggio dovrai risintonizzare la tua TV o il decoder e ci troverai sul canale 80 del telecomando. Un modo più facile per seguire i nostri programmi. Ma non finisce qui. La nostra emittente allargerà il suo bacino di utenza a livello regionale e il nostro canale sarà presente nelle province di Egregento, Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Ovunque sarai, sul canale 80 troverai RMK TV. E non dimenticare che in qualunque posto del mondo è possibile seguirci in streaming sul nostro sito rmk.it, sulla nostra app RMK Sciacca o vedere i nostri programmi on demand e tutti i servizi giornalistici quando vuoi attraverso YouTube e Facebook. Nuovo digitale terrestre. Ottanta voglia di RMK TV.